Ecco, lo sapevo. In pratica io dico afferra un'arma e loro capiscono preparo la cena. La disponibilità di armi non è più un problema, ma ho serie preoccupazioni sull'addestramento militare dei Looper. Visto? Non è così difficile, perché non sono tutti come te. Continua così, ok? Non cambiare mai. Sei impeccabile.